Il gol è stato un tiro da fuori, forse il portiere avversario non si aspettava e magari non si aspettava nessuno. L'ho porto un po' di sorpresa, sono contenti anche io, personalmente, sono contento del gol di Martina. Ci ha messo a sicuro la partita e abbiamo fatto tre punti veramente importanti. Ale, questa volta chi lo dedico? Lo dedico alla mia ragazza. Capitano? Capitano tanti auguri e speriamo che continui con noi ancora per molto, o almeno finché il fisico la regge. Martina è passato Tommasi e ha detto che i polmoni non so se buoni come i miei, ma sicuramente li ha di migliorare. Sono molto contento, è un giocatore come lui che ha fatto molto bene qui a Roma e sono veramente molto felice di questa migrazione. Grazie.